Gnocchi croccanti al forno o in frigidrice ad aria, ricetta sfiziosa proprio d'aperitivo. Si utilizzano per questa ricetta gnocchi di patate fresche, si mettono in una ciotola, si condiscono e ragazzi, sono pronti da servire in pochi minuti, al forno o in frigidrice ad aria, niente di più semplice e goloso. Utilizzo un chilo di gnocchi, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva o in alternativa potete utilizzare l'olio di semi di girasole, un cucchiaino di sale, pepe nero macinato e origano. Se volete potete aggiungere qualcosa di più sfizioso, potete utilizzare anche il peperoncino oppure la paprika dolce o la paprika piccante, potete comunque personalizzare la vostra ricetta. Io ho messo anche un po' di prezzemolo secco. Andranno via come le patatine, questi gnocchi al forno lo dovete provare, sono ottimi da sgroncchiare davanti alla tv per antipasto oppure da servire per un aperitivo con gli amici. Una ricetta con pochissimi ingredienti e ragazzi che devi provatela perché sono super super buoni. Vado ad aggiungere alla fine 5 cucchiai abbondanti di pan grattato. Poi io in questo caso li inforno con un forno ventilato a 180 gradi per circa 25 minuti. Ogni forno funziona in modo diverso. Quindi ragazzi controllate bene la cottura, quando sono ben croccanti sono pronti perché ovviamente ci sono forni che possono richiedere anche più tempo. Se li infornate, se li mettete dentro la frigidrice d'aria bastano a 180 gradi per circa 10 minuti. Però per la frigidrice d'aria vi consiglio di far cuocere 500 grammi di gnocchi. Molto dipende dalla capienza della vostra frigidrice d'aria, quindi se volete potete dimezzare le dosi. Ragazzi questa ricetta è super super virale su tiktok. Io l'ho vista su tiktok e ovviamente l'ho personalizzata e l'ho fatta mia, quindi è diventata gli gnocchi di patate alla cartesia. Voi ovviamente potete personalizzare la vostra ricetta con qualsiasi tipo di spezia. È una ricetta molto famosa che fanno un po' tutti e l'ho voluta provare anch'io. Che dirvi ragazzi? Spero che proverete anche voi questa ricetta. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi un commento e se volete iscrivetevi nel mio canale YouTube Cartesia. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. Fate attenzione alla cottura, devono essere ben croccanti. Ciao, alla prossima, vi mando un bacione grande grande. Baci da Cartesia.